il giubbetto è rosso e l'altro davanti si sta andando al lago del giro dimmi guarda sempre dentro al lago reggillo occhio manuele proprio lago reggillo c'ha la vita rossa vai quello dietro c'ha la vita rossa guarda mandami qualcuno qua a zona arzechena da queste parti che sono rimasti qua ma noi ci siamo persi noi saltareste un altro monte quasi di Rocca Ciencia si dai picchio vieni dalla parte interna perché stanno qua se non riescono su Rocca Ciencia stanno chiusi qua dentro si te confermo Ciro in ferro di cavallo qua se mi mandi qualcuno li chiamo dentro via bottita mi hanno indicato non è ricevuto sei è quasi preso è stato preso è lontano lo so lo so dieci capito ti mazza entra dagli altini contro mano capito è ingeguto ti mazza hai visto intanto Manuè qua devi girare perché sono andati sotto vedi a questo che sono passati i corti max grazie guarda questi allora loro venivano da Valle Martella mi sono scappati all'incrocio uno dell'Ama mi ha detto che sono andati a Piausini e questa è la strada che riesce sulla Prenestina si te confermo questo a far giro rifà la Prenestina e poi arriva dall'altra parte arriva sempre dalla parte della Prenestina un primo marzo là sono passati da qua sono passati i due corti max io adesso vado verso Piausini contro mano comunque Piausini esce direttamente in grida chiamata a Piausini a Piausini a Piausini vai 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 No, sono diventati le corsa e infatti quando vanno messi le corsa qui dentro? Ma il botonino è andato a lasciare? Ma non lo so, sono entrati le corsa qua, sono entrati. No, ma a piedi sono entrati. Snegurati, eh. Eh, bravissimi, entrati, tutto il due eh. Sì, è un po' più rapido. Sì, è un po' più rapido. Finale ora? Allora lui aveva fatto il giro qua e è riuscito da là. Modo finale?